Il filo conduttore è una colorazione abbastanza estiva e quindi abbiamo un po' cercato di creare quello che in questo momento la gente cerca. La nostra collezione è ragazze fino alla donna di 50 anni, i materiali sono tutti vernice, prodotti o quantomeno camoci lavorati fatti da noi. La cartella colori si va dal bianco al nero, ai rossi, ai beige, c'è diversi colori, tacchi alti, tacchi bassi, molto colorati, anche ballerine, tennis. La creazione è fantasia, è tutto, è collezione fatta a un certo livello.